Proseguiamo il nostro viaggio di Voce delle Chiese di quest'oggi e proseguiamo con il nostro viaggio di avvicinamento al novantesimo anniversario della Rancontra del Culto al Colle della Croce, chiamata appunto in modo anche un po' amichevole, in modo così anche empatico la Rancontra, perché davvero è un incontro, dicevamo già ieri con Dario Paone dei Trombettieri della Val Pellice che è venuto a trovarci, è davvero un momento di incontro, un momento fraterno in cui i membri delle comunità protestanti del versante italiano e del versante francese si incontrano a 2300 metri di quota in alta Val Pellice, condividendo un momento di culto ma condividendo anche proprio una giornata, una giornata che è compresa anche di pranzo, di convivialità, di chiacchiere, di presentazioni, di musica e quindi insomma è un bel momento di Rancontra appunto. Continuiamo appunto il nostro viaggio con i nostri ospiti in studio, abbiamo il pastore Stefano D'Amore, pastore attualmente in servizio a Villar Pellice, insieme a lui Miriam Comba, giovane membro della Chiesa Valdesi di Villar Pellice, giusto, annuisce quindi ho detto giusto. Allora intanto grazie per essere qua e benvenuti ad entrambi. Grazie a voi. Allora con voi visto che appunto c'è quest'idea di rilanciare un po' anche la partecipazione giovanile al culto al Colle della Croce vogliamo proprio parlare dell'esperienza che forte di due anni già di insomma tentativi e di proposte quest'anno si consoliderà con una tendata il sabato sera, sabato 22 luglio alla Conca del Pra e poi la partecipazione il giorno successivo 23 luglio al culto. Stefano, gli anni scorsi come è andata, come avete pensato un po' di rilanciare ai giovani questa partecipazione? Prego. Sì, è successo in maniera abbastanza spontanea nel senso che mi è stato chiesto di partecipare un po' all'organizzazione e abbiamo messo subito in piedi un gruppetto anche insieme agli altri pastori qua in zona per proporre soprattutto alle generazioni più giovani di partecipare salendo la sera prima per approfittare del weekend e non solo fare una fatica per raggiungere la cima e poi ridiscendere. Quindi è davvero un incontro che si prolunga un pochettino nel tempo, nelle ore, nel trascorrere anche una serata insieme. È un'iniziativa che è partita qua localmente quindi dalle chiese di Bobbio e Villar, aperta anche poi a Torrepellice negli ultimi due anni. E dall'anno scorso la novità in realtà è che la conferenza distrettuale ha chiesto alla CED del primo distretto di farsi carico di questa organizzazione quindi ampliando ancora di più a tutte le chiese del distretto la partecipazione. E quindi quest'anno vedremo. Certo ma poi il bello è che davvero si coglie l'occasione di condividere appunto non solo la giornata del culto in senso stretto ecco ma proprio un percorso anche di stare insieme, di comunità, di fraternità che inizia già dal giorno precedente. Poi tra l'altro ci sarà anche un momento musicale, ci sarà il Corretto Valdese proprio alla sera del sabato 22 luglio che si esibirà al Rifugio Gervis quindi insomma c'è anche un appuntamento diciamo culturale, musicale che attende i giovani. Miriam tu l'anno scorso e gli anni precedenti hai partecipato, eri una delle partecipanti di questa iniziativa? Sì in realtà io appunto partecipo fin da quando sono piccolina, quando ero piccolina con la mia famiglia, poi al culto proprio, esatto del Colle della Croce, questi ultimi due anni si è aggiunta questa novità in più appunto di questo momento di scambio e condivisione con altri giovani delle chiese e non solo. E secondo me appunto è proprio un bel momento di condivisione, di incontro, di scambio che diventa appunto scambio generazionale. Esatto esatto. Hai un ricordo da condividere visto che appunto sono tanti anni che partecipi al culto al Colle della Croce, c'è qualche ricordo particolare. Ieri Dario ci raccontava di un anno in cui faceva talmente freddo che gli ottoni si appiccicavano alle labbra perché era veramente una giornata gelida, quindi quello era un ricordo così un po' più diciamo legato alla sua esperienza proprio di musicista. Non so se tu hai qualche ricordo da condividere. Ma in realtà appunto l'ho sempre vissuto proprio come un momento di grande scambio, di grande incontro e il fatto appunto di aggiungere questa componente in più, di questa dimensione comunitaria di giovani questi ultimi due anni, insomma mi fa molto piacere. Mi ricordo due anni fa che è stato il primo rilancio di questa tendata pre-culto. E le tende le portate su voi anche? O qualcuno si presta? Un'organizzazione un po'. Mi sembra giusto, così come mi sembra giusto spezzare il percorso in due. Esatto. Una cosa che il fisico apprezza se non altro, potersi fermare a metà strada. Però appunto sicuramente anche ritrovarsi intorno ad un falò e cantare con una chitarra, insomma questo sicuramente è un bel ricordo che spero di ripetere anche quest'anno. Bene, bene. E c'è ancora tempo per iscriversi? Oh, abbiamo appena iniziato, quindi c'è tutto il tempo che volete. Ok, quindi se qualcuno fosse interessato e dopo aver sentito questa intervista dicesse, ma sì dai voglio andare, voglio partecipare sabato 22 e domenica 23 luglio a questa iniziativa, a chi si può rivolgere? Si può rivolgere direttamente a me, oppure anche a Gessi De Laurenti, ci sono i numeri di telefono che stanno girando tramite messaggi di WhatsApp. Facciamo vedere mentre chiacchieriamo la locandina che è stata preparata, quindi se qualcuno ci sta guardando tramite il video sul nostro canale 87 del Digitale Terrestre o sul nostro sito, ecco questo è il programma che inizia già il 21 in realtà, il venerdì precedente, con un momento di musica proprio con i trombettieri di cui ci parlava ieri Dario, insieme agli amici delle Seven che raggiungeranno l'evento. Insomma, quest'anno è davvero una grande festa. I 90 anni ci hanno dato l'occasione per fare tutto quello che potevamo. Tra l'altro ci sono anche due altre iniziative che potete trovare sulla locandina, che sono una mostra sui 90 anni preparata dal Centro Culturale, che sarà visibile sia alla Dogana di Bobbio, sia poi durante il Sino, dopo alle strade di Torre Pellice, e poi anche lo svelamento di un pannello che è stato preparato dall'Ufficio Beni Culturale della Tavola Valdese, che ricorda in occasione dei 90 anni, per i visitatori che passano da lì in altri momenti e non solo la terza domenica di luglio, possono capire il senso anche di questo colle, che luogo è, che storia porta con sé. Certo, questo è un percorso che tra l'altro i beni culturali stanno facendo con luoghi storici, diciamo, delle nostre valli, e si affiancano appunto questi pannelli illustrativi che raccontano la storia, in caso di un edificio ovviamente un po' le vicende, in questo caso un luogo, però che luogo è, che cosa porta con sé questo, un luogo particolare, come può essere appunto il Colle della Croce. Stefano, anche a te, insomma, una domanda di un tuo ricordo particolare, se ne hai, di una partecipazione a un culto al Colle? Ma sicuramente l'aspetto musicale è sempre stato centrale, appunto dalla schitarrata alla sera, ma soprattutto appunto la presenza anche, come vediamo in questi ultimi anni, il corretto Valdese, Torre Pellice, Trombettieri, che da anni continua, ecco, quell'aspetto lì sicuramente, e poi forse più di tutti l'aspetto intergenerazionale, cioè l'immagine che io ho, negli ultimi anni, è quella di mio suocero e mio figlio, che insieme vanno su e hanno, insomma, un tot di anni di differenza l'uno dall'altro, quindi generazioni che continuano a voler partecipare ad un incontro che rappresentava nel 33 qualche cosa di significativo, ma che ancora oggi, insomma, l'incontro al di là delle frontiere penso sia più cattuale. Assolutamente, assolutamente, soprattutto là dove, insomma, la scenografia è quella che è, e che potete vedere appunto dal volantino, che poi, insomma, riproporremo anche sul nostro sito. Bene, dobbiamo ricordare ancora qualcosa o abbiamo detto tutto all'incirca? Credo... Dovrebbe essere tutto. Dovrebbe essere tutto, dicono. Bene, allora... Bene, comunque, il sabato sera, se qualcuno non vuole fare tutti i due giorni e vuole salire solo fino al Pra, il corretto Aldese di Torre Pellice, in cui canta anche Miriam, propone un concetto. Sì, assolutamente, quindi... Bene. Non per forza bisogna farsi tutta la camminata, ecco. Bene, bene, insomma, ci sono una serie di opportunità. Hanno spacchettato questo appuntamento, proponendo una serie di iniziative, con l'obiettivo proprio, insomma, di invogliare le persone a partecipare. Ripeto le date, venerdì 21 luglio, sabato 22 e domenica 23, tre giorni legati appunto al culto del Colle della Croce, che poi avrà anche il suo novantesimo anniversario, quindi una data da ricordare, questa rencontre tra Italia e Francia in Alta Val Pellice. Maggiori informazioni, potete contattare il pastore Stefano D'Amore di Villar Pellice o Jesse De Laurenti, oppure, insomma, telefonate a noi in radio, in qualche modo vi sapremo mettere in contatto. Grazie ad entrambi e buona continuazione. Grazie a voi. Grazie.